E' accusato di avere asportato dal cantiere della superpedemontana Veneta a Santo Mio di Malo 50 litre di gasolio in due tanniche. A scoprire un 58enne di origini straniere con dimora a Vicenza i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Schio che lo hanno denunciato in stato di libertà per frutto aggravato. L'uomo nella notte tra sabato e domenica è stato fermato a seguito di una richiesta di intervento pervenuta al 112 providenziale per il buon esito dell'attività investigativa. La segnalazione pervenuta ha consentito infatti ad una pattuglia del nucleo radiomobile di bloccare l'uomo in flagrante poco dopo aver asportato il carburante da un mezzo d'opera in sosta presso il cantiere. Condotto negli uffici della caserma di via Maraschinatia nel 58enne è stato segnalato in stato di libertà alla procura di Vicenza per frutto aggravato consumato in orario notturno mentre il maltotto è stato restituito ai legittimi proprietari. Ora lo aspetta un processo.